agenzia cecchino aia aia merda o la pure sparata cazzo what the fuck oh shit mancato pure quello fermo fanculo cioè subite cazzo aia aia tutte le gambe è piatta va oh no 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 ah ok ma fottiti il giusto ok dietro dai si è passato vaffanculo i testolini aia aia dov'è? no forse era sopra di ma è passato aia è passato aia 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 ma muore in pace aia aia nooo ti sei suicidato aia 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 come è che non è morto fanculo, vedo che non ti proiettili, che cazzo che spari oh shit buon 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 cagare ho sparato una palla ma va a cagare vai a coltellare qualcun altro stronzo aia aia ma chi cosa aia 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 ma dai cazzo aia aia mamma mia un plotone aia che brutta aia ma sta fermo aia 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 ma dai che ti ho shotato aia aia Sì